Ma è evidente che è anche il momento di interrogarsi sul perché di questa tragedia. La magistratura è già al lavoro, compirà tutti gli accertamenti del caso, però ripeto, l'autorità di governo deve porsi da subito degli interrogativi per prevenire da domani mattina, da questa sera, che tragedie del genere non si ripetano più. Io voglio rivolgere, in questo momento non voglio assolutamente sostituirmi alla magistratura, ma voglio rivolgere anche un accorato appello al senso di responsabilità di tutti coloro che gestiscono dei luoghi pubblici, locali aperti al pubblico, destinati ad accogliere anche un certo numero di persone, devono assolutamente adottare tutte le cautele con grande senso di responsabilità, devono considerare che in quei locali possono entrare i loro figli, devono accertare tutte le condizioni di sicurezza e rispettare tutte le condizioni di sicurezza per prevenire tragedie del genere. Non sto accusando nessuno, ma mi rivolgo al senso di responsabilità di tutti coloro che gestiscono strutture del genere, destinati ad accogliere anche un gran numero di persone.